Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con la Revidi Rampage, io sono Stefano, da voce di The Italian Podcast e anche oggi sono qua per parlare di All Elite. In realtà, una puntata abbastanza interlocutoria, non c'è stato granché da un punto di vista delle storie portate avanti, ma sicuramente un episodio gradevole da vedere se vi piace guardare del wrestling, delle persone che semplicemente si picchiano. È uno di quegli episodi che probabilmente, guardando la card, potete già capire l'andamento di tutti i risultati, è chiaro che poi bisogna vedere come sono stati gli incontri. A partire ovviamente dal primissimo match dove c'è stata la conglomeration in una formazione particolare con Kylo Reilly, con Orange Cassidy e con Tomoeiro Ishii che ha battuto l'Undisputed Kingdom. Ovviamente la storia di base è l'Undisputed Kingdom contro o con, a seconda dei punti di vista, Kylo Reilly, nel senso che sta facendo di tutto per ruotare intorno a Kylo Reilly, per portarlo dalla propria parte. E ovviamente dall'altro canto insomma la conglomeration che è nata così un po' a caso, con un Orange Cassidy senza amici, con un Orange Cassidy un po' demotivato, che viene in realtà tirato su da un Kylo Reilly e soprattutto da un qui assente Mark Brisco che insomma tira la carretta per tutti. Il match è divertente, mi ha ovviamente intrattenuto, era la prima cosa che vedevo appena sveglio stamattina, quindi doveva essere importante vedere qualcosa di bello ed è stato qualcosa di bello, quindi va bene così. Ed è stato insomma quello che più o meno mi aspettavo, quello che più o meno volevo vedere. A fine match c'è stato ancora un attacco da parte di alcuni membri della Don Callis Family su Cassidy, questo fa uscire un Mark Brisco che era rimasto insomma defilato nelle retrovie e però questo Mark Brisco a un certo punto viene colpito da una ginocchiata di Roderick Strong. Roderick Strong che a quel punto alza il titolo della Ring of Honor, ormai è chiaro che i due si confronteranno nel main event di Death Before Dishonored fra meno di una settimana e ovviamente ci sarà da capire chi sarà il prossimo campione. E' chiaro che in questo momento, in questa fase, tutto ci fa pensare che sarà Mark Brisco a mantenere la cintura, una cintura che effettivamente ha difeso poco e che ha portato in giro più come un orpello che come qualcosa di importante da tenere addosso. Vediamo, vediamo perché onestamente c'è da capirci dentro, qualcosina in più non sono ancora convintissimo di questa scelta di lui campione. Vediamo, vediamo dopo il pay per view della Ring of Honor, peraltro il pay per view in realtà è un PLE e potete averlo semplicemente sottoscrivendo l'abbonamento a Honor Club. Poi c'è Saraya, vabbè dico subito, non sto a ripetermi dopo, nella conglomeration è ufficiale l'arrivo di Tomoiro Ishii che comunque sarà per tutta l'estate all'interno del mondo dell'Elite, dato che lui non partecipa al Climax e Tony Khan ha detto che insomma quest'estate sarà lì, non è neanche escluso che faccia qualcosa a Wembley, per cui insomma sarò ben contento di vedere Tomoiro Ishii in azione. Saraya, Saraya vuole un posto all-in, vuole un posto insomma a Wembley, l'anno scorso è uscita a campionessa, ovviamente lo dice, io avevo il mondo sotto i piedi in quel momento lì, però a questo punto non sono all-in. Ovviamente comincia a tirar fuori dei nemici negli altri, in tutti gli altri che hanno paura di lei e che ovviamente non sono pronti per un personaggio come lei, per la Living Legend e così via. Vedremo che cosa si inventeranno, credo che comunque sia corretto farle fare qualcosa all-in di qualsivoglia tipo, anche fosse una Battle Royale, un qualcosa in cui magari arriva anche abbastanza avanti. Io non ci vedo problemi, insomma quando le persone dicono lei non lotta al livello in cui non mi interessa, nel senso è stato un personaggio davvero molto importante e non capisco gli accanimenti, le cattiverie, non avrà il livello qualitativo di altre, però non fa neanche schifo lottare, cioè, non so, sono quelle cose che non capisco. È dentro un roster, se vogliono utilizzarla, perché no? Niente, sono un po' contro un certo tipo di tifo e di rappresaglie contro certi lottatori, magari ne parleremo in qualche video apposta. C'è stato anche il momento Learning Tree contro gli Outrunners, e ovviamente il Learning Tree nelle persone di Chris Jericho e Redwood, Big Bill, sono riusciti a vincere anche abbastanza facilmente, in realtà Chris Jericho fa soltanto il pin, e uscendo però Jericho incrocia Minoru Suzuki, con cui dovrà confrontarsi a Blood and Guts con in palio il titolo dell'FTW. Peraltro è stato annunciato che non ci saranno i suoi, quindi non ci sarà né Bad Apple e né Redwood accanto a Chris Jericho, che dovrà ovviamente cavarsela da solo. Non penso che sarà un grosso problema, non penso che le cose finiranno facilmente, anzi, credo che qualche problemuccio verrà affrontato, poi sia da Jericho che da Minoru Suzuki, proprio per la natura dell'FTW, insomma. Vedremo chi ovviamente verrà a rompere le balle. Intanto poi Minoru Suzuki ovviamente fa il suo match contro The Butcher, un match che... È il Minoru Suzuki di oggi, insomma. Grande fatica per fare il pile driver a The Butcher per chiudere il match, ma ci sta perché The Butcher è grosso, però grande fatica. E dato che Minoru Suzuki comunque meno di un mese fa è collassato durante un match, magari cerchiamo di fargli fare qualcosa di un pochino più tranquillo, anzi, dovrebbe comunque anche lui fare come hanno fatto altri lottatori che poi in Giappone hanno superato un certo limite di età, ma che hanno voluto comunque continuare a lottare, quindi avere delle sfide di un certo tipo, più semplici, più... dove magari certe mosse non devi manco più farle. Vediamo, sono curioso, Minoru Suzuki è un personaggio che merita sempre, però... sono molto onesto quando vi dico queste cose, però... vedremo, insomma, il suo futuro come sarà. Chris Tatlander poi arriva a Battenay, Sydney qualcosa, insomma, un match senza infamia, senza lotte, mi è sembrato proprio un timbrare il cartellino per la quota rosa. Insomma, 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 si può fare di più a Rampage, sicuramente avremo un collision con due match femminili, e quindi Thunder Rosa contro Deanna Purrazzo e Icaro Uscida contro Sky Blue, beh, Chris Tatlander qua, si poteva fare un match diverso, togliendo qualche minuto magari all'Opener, togliendo qualche minuto al Main Event, si poteva fare qualcosina in più. Non lo so, sono sempre quei tipi di match che mi lasciano perplesso. Prima di chiudere con il Main Event, vi ricordo che i like sono molto apprezzati e anche gli abbonamenti. Abbiamo bisogno di voi, insomma, il vostro sostegno per continuare quest'opera gigante che è il nostro podcast, per poter andare avanti nel miglior modo possibile. Il sostegno da parte di tante persone, anche quando è poco, è davvero tanto, tanto importante. Quindi vi rimandiamo, ovviamente, alla nostra sezione abbonamenti per cercare di dare una mano, per comprendere quanto sia importante e grosso il lavoro che stiamo facendo. E ovviamente, insomma, il vostro investimento è ben speso. Vedete che ci sono tantissime cose anche per voi. Main Event, ci sono i Lucia Bros che lottano e battono i Private Party, e quindi un match molto interessante da un punto di vista della parte atletica. Private Party che stanno facendo quella gavetta che non avevano fatto all'inizio, dove erano stati presentati come molto più forti, probabilmente, di quello che erano. Private Party che stanno lavorando bene, stanno consumando minuti sul ring per migliorare. Contro il Lucia Bros hanno avuto modo sia di mostrare l'atletismo, come anche di avere degli scambi abbastanza pesanti, soprattutto con un Rey Fenix in grande spolvero, e un Penta molto, molto valido. Penta in rosso, tra l'altro, sempre bello quando è in rosso. Ha picchiato forte, e questo ci fa sempre piacere. Io credo che i Private Party possono essere un buon asset, devono cambiare qualcosina, e devono capirlo. Presto o tardi lo capiranno, quando lo capiranno, sicuramente avremo in mano un ottimo, ottimo, ottimo tag team. E sicuramente avremo modo di parlare di loro, anche in futuro. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio, della review di Rampage, ovviamente sul nostro gruppo Telegram, che è libero accesso a tutti, con il link che trovate in descrizione, nel nostro gruppo Telegram. Da questo momento in poi, c'è il via libera ai commenti, venite, commentate, state con noi, noi parliamo di All Elite tutti i giorni, e quindi direi che non c'è niente di più bello di godersi un po' di compagnia in mezzo a persone che hanno voglia di parlare dello stesso argomento. Grazie di cuore a tutti, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, noi ci rivediamo. Alla prossima.